I just wanna make you sweat I wanna make you sweat I just wanna make you sweat I wanna make you sweat Bella Perchè? Adesso parli te a meno Devi iniziare sempre te Sempre io Allora Bella ragazzi Bella ciao a tutti Che figlio di grande fuzzi E' lo vado Adesso l'ho ammasso Testa di merda Morto Figlio di fuzzi Basta Cazzo Ecco 200 300 No 400 Mi piace per la menata iniziale E allora l'ho ammasso ancora Dai cazzo Siamo qui nell'episodio numero 26 Di Arora tu commander E' 21 Non dico più un cazzo allora Viva la merda Perchè? Perchè mi ha spaccato il culo Neanche i bonus dici Niente Ah già Cazzo Te mi fai parlare no? Dopo io non mi ricordo neanche che cazzo uso E tutta la madonna no? Allora ragazzi Questa è una partita di uccisione confermata in resistance Che Non dico Guardalo di lì Guardalo Guardalo Vabbè Gesù mendicante Non dico che Come cazzo si dice Che prenderò la muova Però Uso specialista quindi Magari Un tentativozzo ci sta sempre O no? Sì abbiamo capito Però non hai detto niente Né arma né niente Niente ha detto Dilla st'arma Cosa ha fatto quello? Non so che volo ha fatto però Pum Adesso gli fottolano E tre di fila G36 oro Mamma mia Poco bustato Poco bustato Ma È concentrato in questa partita Raptor Molto concentrato Qualcosa mi dice che là dentro non ci devo andare Begum pingami Lì Non c'è nessuno Oh Quante cazzo di piastrini ci sono Ce l'hai sopra Eh te l'ho detto che ce l'avevi sopra Per farti i cazzi tuoi Vabbè Ah pure inflessibile Adesso alzo il volume così non ci sento più Perché? È una kill è arrivata E c'è il super liquidator lì per terra Prendilo no? Oh Ti è andata bene E va va così ancora Ma lamalo Ma cosa stai facendo? Ma guarda qua ci sono Non mi romperai il cazzo pure te Che palle Va C'è nessuno C'è nessuno qua È una kill c'è La kill c'è C'è più un cazzo di nessuno Non è dietro lì Non è dietro lì Eh no Eh Che madre bastarda Che madre bastarda Vabbè Che madre bastarda Usi sta cazzo di Oh Come ha fatto killarlo con due colpi Con due colpi Ho fatto killarlo con due colpi Guarda i caricatori E te lo fottono Come cazzo hai fatto? Non mi rompere il cazzo pure te Come cazzo hai fatto? Eh dopo crepa Dopo crepa Bisogna stare zitti in questi momenti Poi va a prendere le piastrine Come un rincoglionito Tripla di Usos Ha fatto quello Bravo Ma che ti hai fatto un colpo alla testa Ma non è che te lo vengo a dire sempre È sotto È lì Porca droga Porco di un cane puttaniere di merda Quel cane bastardo Quello che ce l'ha preso in culo ieri notte Ieri notte Bene bene Sì dai FMG9 secche Mi ha tirato quello Secche secche Vabbè C'è nessuno Cazzo ruote dappertutto ci sono Scarelli di merda Mi ha salvato il culo il nostro compagno Eh sì Più di puttana Per un perlomeno Spacca a metodo Va 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 Ah stai attento Come schiviare una granata Guardate Schiviare 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 Vedi Quanti sono Due Erano due però No tre vedi Uno era imboscato lì con il coglione Con il cecchino di merda Che non era un cecchino Ti piace il cecchino stesso? No Tira di lì Tenta 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 di fare qualcosa Ma non riesce a fare un cazzo Aspetta 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 Urcoliaz Cazzo Sono tutti dentro in quel cazzo di robe? E' saltata la mag Ah no Il reaper Cazzo Non l'avevo neanche visto Che c'era in volo Quanto mi fa rosicare il reaper Mamma mia Vedi mamma mia Mamma mia Stiamo dentro nella casa un attimo va Eh per forza Doppia Doppia Ma non è vero E adesso ti ammazzo No no Questo qua è host È host per forza È host Perché è che non gli arriva neanche un colpo Non ci crede nessuno Eh però abbiamo visto Sono uscito sparando Gli dovevano arrivare i colpi Non mi devono prendere per il culo Ehi Colpa mia È host È host È l'host È l'hostess Tanto l'host è nemico Ma è hostess Sì Boom È quello che si mette però lì così E però mi anche rincoglio lì È questo Oh È una P7 d'oro È bustata come non so cosa È Stazione rapaida Ma non è con i caricatori modificati Sto è una P7 qua Insomma la devo campionare però Perché siamo circondati Da tutte le parti Ti piacciono i pacchi No non mi piacciono No non mi piacciono Oh è appena Prima volta in tutta la partita Che arriva a 5 È scammerato Forse ti devi dire Prima volta in tutta la partita Che c'è una GM amico No Forse ti devi dire Che mira di merda Che c'ha Raptor Dov'era? No Non ci credo Non ci credo Dov'era Dov'era? Dov'era? Non è un camper Quello No Cazzo è proprio Una roulotte Appostata Non è un camper È una roulotte Porca troia Ci sono rimasto di merda Veramente Non giocava poi Aspettato che passavo davanti Non stava giocando Non era neanche in giro Non cazzo Era lì Fermo Non ti fa nascere lì E si è piazzato Sì ti fa nascere lì E adesso Lo so perché Non c'è successo Che mi è nato il gruppo Da 4 o 5 lì Sì Sì però Cazzo Sto super liquidetto Il fa carare L'ind merda L'abbiamo visto tutti Entra in casa no? Facciamo un paio di partite Con specialista Sì Entra in casa però Cazzo anche a me A giocare con specialista Cazzo Ma se ti incazzi Di brutto Il problema è che Devo stare lontano Dal cobrozzo Come hai fatto? Ah ma perché Le sue super cuffie? No 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 Scappa Stai qui no? Scappa Scappa Ma stacemi stare qua Ma non mi rompere il cazzo Quando c'ho specialista Non farmi bestemmiare Come prima Eh Vedi? Vedi? Vabbè Vai dove cazzo vuoi? Eh sì che vado dove cazzo voglio Boh ma allora sei forte Non è che perché Non è perché Ti fanno andare dove cazzo vuoi Sei forte Che drastronzo Dio porcel Ma porco di un porco di un porco di un cane rotto in culo Pezzo di cazzo Puttana Viva il culo Viva il culo? Se ti chillava Se ti chillava E' questo che non la Gli hai salvato il culo però Non sto andando proprio malissimo Però Preferivo far meglio Preferivi far meglio MK14 Meglio di così non si può fare Qua non c'era un MK14 Sì Sopra Qua di nemici non ce ne sono Pieno Pieno è È pieno Mandato così in sopravvivenza Da sempre da dietro È sempre da dietro E che cazzo di spawn di merda Spawn proprio Dai la colpa al gioco Eh vedi IMP Per fortuna che sono bici Se non rompevano E ancora Sempre da dietro Lì Hai visto che appena mi ha ammazzato l'hanno ucciso Spero che hai visto No non ho visto Quei gran cretino Adesso mi faccio le sfide per la mia P9 Così faccio 2000 kg in una partita E adesso Mi fotto tutte le medagliette almeno Vinciamo Ora per quanto siamo vinti Eh pareggio Pareggio Siamo in pareggio Boh ma abbiamo vinto Prendila 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 Buona Non vinto No Non ci credo 400 mi piace solo per questa cosa Non ci credo Non ci credo neanche io cazzo Eh neanche io ci credo Cosa vuol dire questo Vabbè Interrompi Sono il mio computer Sa che cazzo vuol dire Sono il mio computer Se vi è piaciuto questo episodio Che era il numero 26 26 26 26 Lasciate un mi piace E lasciate un commento Se volete Ah una cosa importante Prima di chiudere il video Una cosa importante Ditemi che arma usare Perché non c'ho un cazzo da usare Sto usando le stesse armi Ditemi che arma devo usare Anche un fucile a pompa Non me ne frega un cazzo Va benissimo Fucile a pompa Ditemi solo che arma volete che uso E ci sentiamo alla prossima Bella ragazzi Ciao 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 Ciao